Chiamo sul palco i rappresentanti di tre importanti realtà che partecipano al nostro evento per discutere di temi caldi del presente. Abbiamo dato un titolo a questo speciale format che speriamo possa esservi di ispirazione, è Crowfunding, finanziare il futuro, strategie per startup e imprese. Quindi diamo il benvenuto all'avvocato Gianluigi Serafini, partner di LS Lexus Sinacta. Eccolo. Un bel applauso. Prego. Avvocato, buonasera, benvenuto. Si accomodi pure lì. Proseguiamo con l'avvocato Simone Facchinetti, founder di Facchinetti Low Firm & More. Eccolo. Buonasera. Buonasera. Do la mano anche a lei. Benvenuto. E concludiamo appunto con Vincenzo Paradiso, amministratore unico di Alphard Technologies. Un applauso anche per il terzo ospite. Eccolo. Lo facciamo accomodare. Buonasera. Buonasera. Io vi lascio e ci vediamo dopo. Ci vai a preparare i prossimi... Assolutamente. Le prossime parti della serata. Benvenuti ancora anche da parte mia, da parte di tutto il team Le Fonti. Ovviamente in queste serate noi ci teniamo molto a dare maggiore rappresentanza ad alcune realtà sul palco in una sorta, noi lo chiamiamo CEO Summit, ma insomma è più una chiacchierata credo, no? Perché una serata di premiazione come questa deve avere comunque un aspetto anche informale. Anche perché poi i messaggi arrivano sicuramente meglio. A volte proprio le cose dette con semplicità arrivano prima. E allora ci teniamo proprio a organizzare queste chiacchierate, come diceva Asia poco fa, per cercare anche di dare maggiore ispirazione. In un momento nel quale insomma tutti dobbiamo fare i conti con tante incognite che ci circondano. Ma noi cerchiamo di superarle ovviamente. Quindi crowdfunding, finanziare il futuro, la parola futuro c'è quasi sempre in questi nostri appuntamenti. Strategie, altra parola chiave. E allora io parto con la prima domanda e inizierei dall'Avvocato Serafini, poi Avvocato Facchinetti e Vincenzo Paradiso. Partiamo da un report dell'Osservatorio del Politecnico di Milano che ci racconta che proprio in questi ultimi anni è cresciuto il crowdfunding in Italia, soprattutto quello del settore immobiliare. Io vorrei sapere, secondo la vostra esperienza e secondo anche il vostro osservatorio personale, al di là di quello che ci arriva dal Politecnico di Milano, come mai, secondo voi, secondo lei Avvocato, è accaduto questo e in generale se ci sono dei settori che lei ritiene siano quelli utili su cui puntare in questo momento? Il crowdfunding si sta sviluppando in Italia con ritardo rispetto ad altri paesi e l'abbiamo un po' scoperto negli ultimi anni. La volontà è quella molte volte dell'investitore retail, cioè del piccolo investitore, che spesso è ingabbiato in un fondo, in qualcosa che non conosce, di poter avere anche il divertimento, perché a volte sta diventando quasi un gioco, perché nel crowdfunding alcuni si può entrare con qualche centinaio di euro o qualche migliaio o decina di migliaio di euro, quindi sono molto variegati. Ma la capacità di toccare l'economia reale, cioè vedere l'oggetto sul quale si investe. Questa è la grande differenza. E quindi il fatto di poter dire sì, è sempre un capitale di rischio, però un capitale di rischio che ho scelto realmente consapevolmente dove andare a investire. Questa è la motivazione di fondo con cui queste piattaforme in qualche modo funzionano. È la possibilità anche un po' di consentitemi di poter giocare sul rischio dividendo tanti piccoli investimenti e giocando anche sul gioco delle probabilità tante volte, no? Certo. Perché anziché mettere tutto il pezzo del mio risparmio, lo divido su dieci, se ho fortuna un'azienda su dieci può farmi moltiplicare quello che è il risultato finale. Sull'immobiliare. L'immobiliare si è sviluppato parecchio perché da un lato abbiamo assistito a due fenomeni sul mercato. La nascita dei club dealers, cioè delle grandi operazioni di investitori che si mettono assieme per fare delle operazioni immobiliari. Contestualmente nei mercati quotati, le quotate immobiliari invece nell'ultimo anno hanno avuto un esito disastroso, quindi le persone non hanno più increduto nelle grandi società immobiliari quotate, però hanno iniziato a investire su che cosa? Nel crowdfunding, che è la possibilità di investire su un singolo progetto e quindi sono progetti a volte grandi, a volte piccoli su cui si lancia una raccolta perché poi l'oggetto diventa poi questo. Con la finalità, e questa è la grande differenza rispetto al crowdfunding relativo alle aziende, dei tempi, perché il crowdfunding immobiliare ha un tempo molto più breve, mediamente dai 12 ai 24 mesi, mentre l'uscita da un crowdfunding su una PMI, su una start-up è molto più lunga. Quindi c'è una possibilità sicuramente accelerata di rimborso e c'è un'aspettativa di rimborso che va collegata a quello che è il mercato che ha avuto una forte crescita, quindi diciamo che mediamente le operazioni hanno avuto rendimenti più o meno promessi all'interno della doppia cifra, cioè del 10% nell'ambito del crowdfunding immobiliare. Ecco, non è tutto oro quello che luccica, teniamo conto che è sempre un'operazione di equity o di debito, perché l'altro tema del crowdfunding è che sono le due piattaforme che possono raccogliere sia debito che equity. Nella parte che riguarda invece non l'immobiliare, che sono investimenti che hanno all'oggetto un singolo bene, una ristrutturazione, un hotel, un villaggio turistico, in cui si lancia la raccolta, quando la raccolta è terminata, questa è la cosa importante del crowdfunding, si chiude e si parte col progetto. Se il denaro non viene raccolto per realizzare l'obiettivo, viene restituito ai sottoscrittori. Dopodiché c'è tutta l'analisi del rischio di tutte le operazioni che comunque sono correlate a questo. È molto importante invece, e vi volevo ricordare, rispetto al crowdfunding che riguarda le PMI o le start-up, la nuova norma che è entrata recentemente in vigore sulla demeteralizzazione delle quote delle SRL. Uno dei grossi limiti che aveva il crowdfunding nell'ambito dell'acquisizione di partecipazioni nelle SRL, nelle società di capitali, era che la normativa non prevedeva che bisognava essere partecipi di una società, quindi andare dal notaio, essere all'interno e la circolazione di queste quote era molto difficile. Questo consentirà ragionevolmente di poter creare un mercato secondario del crowdfunding e quindi ci sarà un ulteriore sviluppo e ragionevolmente anche un incremento del sistema di valorizzazione. Grazie. Una bella fotografia, peraltro pensando anche proprio in generale al tema dell'investimento. Vado adesso dall'avvocato Facchinetti. L'avvocato Serafini ha nominato due aspetti fondamentali per quando si decide di investire. La diversificazione, quindi come dire, guardare più cose, mettere un po' di qua e un po' di là, si dice mai mettere le uova nello stesso paniere, no? Le chiedo se anche lei è d'accordo con questo. Adesso io ho molto semplificato il concetto e poi la pianificazione, capire in quanto tempo vogliamo dedicare energie, forze e soldi in un progetto ovviamente in cui crediamo. C'è, aggiungo la domanda fondamentalmente che ho fatto anche all'avvocato Serafini che resta la stessa, cioè come mai secondo lei è cresciuto molto il crowdfunding soprattutto nel comparto immobiliare. Ma aggiungo questo, c'è quindi maggiore fiducia in progetti di questo tipo, proprio per questi punti fermi, diciamo così, ecco. Sì, confermo e vabbè, dopo la lezione magistrale del collega Serafini... Ne facciamo un'altra con lei. No, confermo tutto. È un assist, mi ha dato un bellissimo assist perché... Allora, prima cosa è un criterio, è un problema anche di informazioni. Le asimmetrie informative che il crowdfunding all'inizio ha avuto questo problema perché si investiva sulle start-up innovative, poi sulle PMI innovative, poi solo sulle PMI perché comunque il crowdfunding... Ricordiamo comunque che l'Italia è stato il primo Stato, la prima nazione a livello europeo e tra i primi a livello mondiale ad adottarsi di una normativa sul crowdfunding nel 2012 e poi c'è stata dopo questa genesi una sorta di sviluppo, di crescita e di espansione, in particolare in quello immobiliare. Problema della simmetria informativa, prima si investiva sulle start-up innovative, sulle PMI innovative dove normalmente erano dei progetti poco conosciuti o comunque la fiducia su una persona e pertanto queste informazioni erano difficilmente controllabili e per questo anche inizialmente tante start-up, tanti progetti poi non hanno portato a quello che si prevedeva. La diffusione soprattutto in base all'osservatorio sul crowdfunding fatto al Politecnico di Torino di ottobre 2023 ha portato questo aspetto come più o meno si sono raccolti, se non mi sbaglio, 345-346 milioni di euro in crowdfunding, in tutte le tipologie di crowdfunding, c'è stata una lieve flessione di tutte le tipologie di crowdfunding, tranne quello nel settore immobiliare che invece ha trainato il tutto. Perché? Per due motivi fondamentalmente, quello che ha detto il collega e quello che ha detto tu Manuela diversificazione. Posso mettere 5, 10, 20, 50 mila euro in un progetto di una società che per esempio mi piace perché restaura i borghi medievali, piuttosto che costruisce grattacieli, piuttosto che è particolarmente sensibile nell'efficientamento energetico e perciò va recuperato magari una zona di periferia. Dall'altra parte c'è quest'altro aspetto positivo che è il discorso della controllabilità delle informazioni. Nell'immobiliare normalmente chi lancia il progetto è una società che esiste già. Ci sono delle planimetrie, dei progetti, dei report che si possono già controllare prima circa l'affidabilità del progetto, l'affidabilità dell'azienda. E nei crowdfunding immobiliari normalmente c'è sempre un terzo partner, oltre a chi lancia l'emittente del crowdfunding e al cliente singolo, c'è sempre una banca normalmente, c'è un'istituzione comunque bancaria e finanziaria a fianco perché normalmente questi progetti necessitano di più partner finanziari. Perciò questo secondo me è il motivo anche del successo e poi giustamente possiamo tutti noi giocare un po' e diversificare. Eh certo, ecco, lei ha aggiunto anche la parte delle sinergie giuste, trovare chi ovviamente poi ci può accompagnare in questo. È un doppio binario, cioè un accompagnamento, almeno così è emerso dalle sue parole. Così aggiungiamo anche dei tasselli. Stessa domanda anche a Vincenzo Paradiso. A partire, non so se lei si sentirebbe di aggiungere subito un'altra parola, ma abbiamo fatto un po' una raccolta di parole chiave per il crowdfunding, del perché c'è questo interesse sempre più evidente. Ma il perché, lo posso sintetizzare, secondo me perché c'è un nuovo paradigma culturale che ha accompagnato la normativa che nel 2012 l'Italia è arrivata per fortuna prima. Perché dico questo? Perché noi eravamo abituati ad avere o i grandi investitori istituzionali o le grandi famiglie che comunque attraverso advisor, attraverso studi legali venivano veicolati su un fondo piuttosto che un altro, quindi diversificavano, erano guidati. Il tema vero è che il cambiamento generazionale che abbiamo avuto in Italia, per fortuna, anche nelle grandi famiglie industriali, con l'arrivo dei nuovi giovani che avevano delle competenze e delle preparazioni che traguardavano il settore dell'innovazione, ad esempio, ha portato grandissima linfa. Perché sul settore delle start-up io lo chiamo un paradigma culturale nuovo, se vogliamo che rispetto all'aspetto finanziario e quantitativo venga ad avere un basso rischio l'intervento di chi investe, anche del piccolissimo. Perché la start-up va accompagnata. L'atteggiamento di chi fa e la responsabilità di un attore, citava l'avvocato il settore immobiliare. C'è sempre una banca, c'è sempre una certezza di chi ha le competenze e la capacità di investimento per guidare quel progetto. In una start-up no, quindi in una start-up nel settore dell'innovazione e della ricerca. Noi non possiamo lasciare questa responsabilità all'università quando la ricerca non riesce a diventare applicata, ma deve essere qualcosa che a livello industriale accompagni la ricerca universitaria a diventare applicata e a usufruirne direttamente in azienda. Di chi sa già come muoversi. Di chi sa già come muoversi e di chi poi magari veicola il ricercatore che ha intrapreso un percorso di innovazione in un determinato settore e poi magari non sa fare l'imprenditore, ma non è quello il suo ruolo. E allora l'impresa o chi investe deve avere una capacità sociale di guidare. Sull'altra domanda che lei ha posto, le nuove frontiere, lasciamo perdere l'immobiliare secondo me scontato. Sì, altri settori sono su cui puntare. Noi oggi siamo di fronte, abbiamo visto poco fa, l'intelligenza artificiale. La società che io amministro che entra in una galassia di un gruppo di 500 milioni di fatturato che opera nel settore della sicurezza fisica e della sicurezza cyber, quindi dei dati, e con una serie di studi legali di contorno che accompagnano il nostro settore, ha un paradigma nuovo che è quello della blockchain, su cui stiamo investendo e su cui stiamo avendo dei risultati, soprattutto in ambiti che riguardano gli studi legali, quali possono essere tutte le procedure amministrative. Noi siamo già in una fase avanzata di sperimentazione, abbiamo sperimentato questa tecnologia in un ospedale che è l'ospedale Giglio di Cefalue e ci ha dato grandi risultati. Ma perché dico questo? Perché le nuove frontiere che sono lì, l'intelligenza artificiale, il quantum computing e la blockchain richiede una cosa, su cui l'Italia purtroppo è molto indietro, ed è il sistema educativo e formativo. Allora non possiamo delegare allo Stato un sistema che regge tutte le attività dell'uomo, delle imprese di uno Stato. Non possiamo delegarlo alle grandi università che abbiamo in Italia, allora anche lì una forma di investimento che recupera il sistema educativo e recupera il sistema formativo aiuta tutto, perché oggi il vero tema su cui è chiudo, su cui tutti noi ci confrontiamo e su cui abbiamo dei problemi, nelle aziende, è la persona che si avvicina con competenze e con anche la voglia di investire e crescere in quell'azienda e con tutta una preparazione che non può essere solo universitaria, deve essere anche quella del mercato. Lei peraltro ha toccato tre punti che appartengono all'attualità più stretta, non solo economica ma anche sociale. Intanto il tema dell'intelligenza artificiale nel 2023 è stata la padrona della scena, anche a livello di investimenti, le società tech che hanno dato un impulso importante per esempio ai mercati nonostante lo scenario difficile, quindi quello ha dato veramente una grossa forza. E poi formazione, questo disequilibrio che c'è tra la domanda e l'offerta, le imprese che cercano, giovani magari volenterosi, ma che in qualche modo, proprio perché l'università non può bastare, non hanno la formazione adeguata. E queste sono effettivamente, a mio parere, ma mi pare di capire anche su e anche di chi l'ha preceduta un po' le sfide che dobbiamo necessariamente percorrere da adesso in avanti. E a questo punto parliamo di un'altra questione di cui si parla tantissimo, soprattutto in questo ultimo periodo, anche spesso un po' sproposito, la brand reputation. Probabilmente si è parlato molto di chi attraverso le nuove tecnologie divulga il proprio business, spesso anche in modo errato. Ma noi parliamone invece in modo consapevole. E riparto dall'avvocato Serafini. Quanto è importante la brand reputation, quindi l'immagine, la propensione, soprattutto verso l'estero, perché poi noi dobbiamo guardare oltre confine per una start-up che vuole intraprendere la strada del crowdfunding, quindi una start-up che in modo giusto accompagnata però vuole guardare a questo strumento. Ecco, definiamolo così. Ma guarda, io da oltre vent'anni mi occupo di mercato dei capitali e penso che le regole generali ricadano anche sul crowdfunding, cioè tutto quello che riguarda la gestione del patrimonio è strettamente legato all'elemento reputazionale. Cioè purtroppo o per fortuna l'elemento reputazionale e la storia sono elementi fondamentali di successo di un'operazione. L'altro elemento su cui io continuo a soffermarmi ma riguarda in generale la vita e il successo delle aziende è la trasparenza. La trasparenza e la completezza delle informazioni. quindi prima cosa cosa succede? Per una start-up che fa un crowdfunding la prima analisi da fare è intanto capire la piattaforma su cui si opera perché ci sono tantissime piattaforme e non tutte sono uguali. Basta dire crowdfunding. Ci sono piattaforme specializzate su determinati settori e piattaforme che hanno determinate regole, quindi capire le regole della piattaforma perché ogni piattaforma ha una sua regola di gioco, ha un suo livello di approfondimento, ha team di analisi che disciplinano l'accesso della piattaforma. Vedere anche la storia, vedere i casi di successo, le probabilità che ci sono state. Però soprattutto, ripeto, la trasparenza e la completezza dell'informazione. Questo è fondamentale. Nel settore immobiliare ad esempio abbiamo notato proprio recentemente che una delle principali piattaforme che opera nel settore immobiliare del crowdfunding dal 2024 ha cambiato il regolamento al fine proprio di accentuare gli elementi di pubblicità e trasparenza addirittura nel corso del percorso di realizzazione dell'immobile. perché è evidente che per apprezzare il livello di rischio le cose possono andare bene e possono non andare bene ma l'investitore deve avere consapevolezza e conoscenza. Più questa cosa c'è, più la parte reputazionale cresce. Non mi piace, ad esempio, quando qualche, non parlo delle piattaforme, ma quando qualche grande progetto più che portare il progetto porta il fatto del testimonial che ci sta comperando la casa, che sta facendo la cosa, sta diventando un po' di moda questo elemento qui. Allora, io penso che in tutto questo che io chiamo ethic washing, cioè abbiamo il green washing, ma c'è anche un elemento di ethic washing in finanza, bisogna stare molto attenti, cioè bisogna stare attenti alla civetta. Assolutamente. Che quando c'è quella, grossomodo, magari è vera, ma non è che perché quel calciatore ha investito lì dentro o dice di aver investito 50.000 euro, che per lui sono nulla e poi chissà se gliele ha messi veramente, quell'oggetto è buono. Andiamo a guardare se quell'oggetto ha prospettiva, se le cose sono realizzabili nei tempi che hanno detto e se in fondo ha una credibilità di sostanza, nell'ambito soprattutto, come diceva giustamente, già dell'esistenza non solo di una raccolta, ma anche di un finanziamento. Se c'è già un finanziamento correlato all'esito della raccolta, probabilmente c'è qualcuno, un istituto bancario, che ha fatto una due diligence, ha fatto delle verifiche che ci danno un po' più di speranza che vada a buon fine. Questo assist lo giro subito al, me l'ha dato inconsapevolmente probabilmente, l'avvocato Serafini, ma lo giro all'avvocato Facchinetti, cioè parlando della pericolosità a volte, bisogna stare attenti a prendere un testimone, ad esempio, è perché si dice che per crearsi una reputazione ci vuole una vita, a stroncarla ci vuole un secondo e poi il problema è che non si recupera più o comunque bisogna veramente mettere in atto una serie di strategie spesso complicatissime. Allora, a partire anche da questa sollecitazione, cosa ne pensa l'è avvocato? E poi, cos'è per lei la brand reputation, questa immagine che una startup deve necessariamente costruirsi per poter competere sul mercato? Sì, allora è assolutamente fondamentale quanto strategico parlare di branding, di personal branding ancora di più in questi tempi, in questa epoca e soprattutto farne attenzione. Abbiamo dei casi eclatanti che sono successi nell'ultimo periodo per un motivo alla fin fine. Non si prevede quello che è il disaster recovery plan, cioè il piano davvero di uscita, in caso di disastro, dov'è la porta di uscita? La porta d'emergenza, le scale di emergenza per scappare. E questo è fondamentale. In pochi lo pensano, invece dovrebbe essere forse la prima cosa a cui pensare, perché è saper gestire un momento di crisi che potrebbe assolutamente, per fatti che dipendono da te o per fatti assolutamente che non dipendono da te, portarti al completo fallimento, soprattutto quando magari un brand si chiama col tuo nome e col cognome e pertanto rimarrà per sempre. E certo. E questo è un altro consiglio, utilizzare sempre non nel proprio branding, nel nome della ditta, nel nome del marchio, non il nome e cognome della persona, ma un qualcosa di inventato, perché così se qualcosa va male si può virare e non è direttamente collegabile a te. Oggigiorno perché personal branding? Perché questa importanza? Perché strategia? Sappiamo che col crowdfunding ha dimostrato, soprattutto all'inizio, che la raccolta di capitali non è sufficiente. E come la raccolta di capitali, i crowdfunding che funzionano, sono quelli che poi si riescono a replicare. Perché magari l'azienda stessa va bene, allora dopo un anno lancia un'altra crowdfunding, perché così i suoi investitori possono reinvestire. Certo. Ed è questo un aspetto fondamentale. E allora di branding si parla anche prima di far uscire la campagna di crowdfunding. Usiamo quello che un po', diciamo gli economisti o gli esperti di marketing, parlano di soft power, perciò questo un po' martellamento quasi quotidiano di una stessa cosa che si vede in televisione, nella quotidianità, per le strade, in modo tale che a tutti noi colleghiamo quella cosa ogni giorno, ci entra in testa inconsciamente e poi la riconosciamo quando esce la campagna di crowdfunding. Allora magari ci investiamo perché l'abbiamo già vista, perciò siamo più confidenti e forse abbiamo più affidabilità a investire mille euro, cinquemila, cinquanta in quella cosa. Certo. Vabbè, ci ha dato anche dei piccoli segreti, Avvocato Facchinetti. Dottor Paradiso, ecco l'altra domanda sempre collegata a questa, che rivolgo anche a lei, prima di concludere, è che anche si collega a quello che lei diceva poco fa delle start-up. Rischiano tanto in questo, secondo lei, le start-up? Cioè, proprio se non hanno l'adeguata formazione delle persone che ne fanno parte, il giusto accompagnamento, di cascare in errori che poi davvero li penalizzano fin dalla partenza e poi, insomma, partire già con il piede sbagliato, con tutte le difficoltà che già esistono, diciamo che fa abbandonare poi il progetto a moltissimi nuovi che entrano nel mercato. Quanto effettivamente le due cose si associano? Negativamente in questo caso, appunto, gli errori che vengono commessi? Sì, secondo me noi commettiamo l'errore di assolutizzare l'errore. L'errore fa parte della vita, delle imprese, delle persone. Non c'è una persona o non c'è un'azienda infallibile che non sbaglia mai. Certo. E quindi, secondo me, è proprio della nostra civiltà strumentalizzare l'errore e assolutizzarlo. Diceva l'Avvocato, parlava dell'informazione. Noi commettiamo un grandissimo errore nell'assolutizzare la reputation, però renderla soggettiva. Perché? Strumentalizziamo l'informazione. Noi non parliamo del dato oggettivo da cui parte una procedura, un procedimento, un processo, una vita. Noi gestiamo soltanto l'informazione a valle. Scusate, in questi giorni stiamo vedendo come si possono utilizzare le informazioni anche sensibili di privati cittadini o di ministri e strumentalizzare tutto. Quindi questo è un problema serio, etico, dello Stato e degli cittadini e di tutte le comunità. Per le start-up, invece, è un altro problema in più che hanno nel percorso di crescita che loro devono fare. E allora anche lì, in America, se tu hai tre, quattro fallimenti delle tue idee, non succede niente. C'è sempre qualcuno disposto a investire, a guardare l'oggettività di quel processo. Perché poi le imprese ci insegnano che cosa? Che tu hai una bellissima idea, ma non è il momento giusto per quell'idea. Magari è prematuro che il mercato accolga un'idea. Quante aziende hanno avuto intuizioni, ma non erano nel momento giusto, al posto giusto, come si dice. Allora, in questo senso, secondo me, la parte di reputation è fondamentale, perché la reputazione della persona e dell'azienda coincide. Ma non deve essere una spada di Damocle usata contro. Deve essere qualcosa che aiuta anche a costruire e a crescere. Allora le start-up li perdiamo tutte. No, certo. Beh, quindi allora possiamo collegarci a quanto si diceva prima del nuovo paradigma culturale. È una questione proprio di rapportarsi in modo diverso. Noi dobbiamo un attimino cercare di toglierci dei paletti, insomma, che ci siamo messi. Pregiudizi. Eh sì, pregiudizi, falsimiti, errori. Ecco, questo è un ottimo punto di partenza. Io ringrazio l'avvocato Gianluigi Serafini, l'avvocato Simone Facchinetti e Vincenzo Paradiso per essere stati con me sul palco. Ci rivedremo sicuramente nel corso della serata. Un applauso. Grazie.